Gli svedesi hanno un grande incentivo per prendere un aereo, andare in un posto soleggiato, soprattutto quando da loro l'inverno è buio. Per questo l'aeroporto di Arlanda, Stoccolma, è in fase di costante ampliamento. Tuttavia il paese vuole fare anche molto per l'ecologia, ma le statistiche delle emissioni a effetto serra crescono con l'incremento esponenziale del traffico aereo. Lo stesso ministro svedese alle infrastrutture spiega che se tutti volassero tanto quanto gli svedesi la cosa sarebbe letteralmente impossibile. Peraltro in maggioranza i politici svedesi sostengono che non c'è bisogno di tutti questi voli, ma la compagnia statale Svedavia sostiene il contrario. Un esperto del clima invita la moderazione. E' proprio come per le strade, si fanno sempre più grandi e lunghe, così si progettano aeroporti sempre più grandi. Non è facile conciliare l'ecologia con l'invito al viaggio. Grazie. 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 Grazie.